È la prima volta, almeno da 30 anni a questa parte, che sappia io, che si procede in Consiglio Comunale a Bassano a dare un voto su una proposta che non è della Giunta ma è di un certo numero di cittadini, rappresentati a norma di statuto da soli tre personaggi. È uno strumento che non è mai stato usato e per la prima volta questa sera viene utilizzato. Ed è uno strumento che sul quale, sulla legittimità del quale io ho già espresso nelle sedi opportune qualche perplessità, perché mi sembra assolutamente fuori luogo che venga riproposto al Consiglio Comunale di annullare, dopo 15-20 giorni, un mese, due mesi, di annullare una delibera che diceva giusto il contrario.